Sono Don Lorenzo, il direttore dell'Opera Salesiana di Betlemme. Tra le tante attività di questa nostra opera abbiamo fin dall'inizio, vuol dire fino al 1863, un forno. Questo forno è nato durante il periodo dell'Impero Ottomano, quando quest'opera era un orfanatrofio e si occupava soprattutto di bambini molto poveri e abbandonati. Allora per avere un'entrata, diciamo così, che potesse dare una sopravvivenza a questo orfanatrofio è stato aperto un forno dove non solamente si sfamavano i ragazzi che erano interni ma si vendeva il pane che si produceva e con questa entrata si sopperiva alle necessità dell'orfanatrofio. Naturalmente con il passare degli anni questa attività si è sviluppata in maniera molto progressiva nel senso che lentamente è diventata un'attività che realmente dà uno sfogo economico all'Opera Salesiana della nostra presenza qui a Betlemme dando un'entrata che ci offre la possibilità di vivere incontro a tante situazioni. Noi siamo sempre stati presenti come lo siamo oggi durante il Covid nel sopportare soprattutto le famiglie povere che hanno delle grosse esigenze dal punto di vista economico. Ultimamente, soprattutto all'inizio del Covid, abbiamo sostenuto 130 famiglie dando loro il pane quotidiano e così dando un alimento di base che è molto importante per loro. Come potete vedere alle mie spalle noi produciamo vari tipi di pane non solamente del pane normale, diciamo così come quello vedete dietro di me, quello rotondo ma anche pane che chiamiamo di stile italiano oppure pane fatto con il sesamo, pane fatto con il timo e pane anche con della cioccolata. Sono vari prodotti che noi mettiamo in commercio per poter aiutare la nostra opera nel sovvenire soprattutto le famiglie povere perché gran parte diciamo dei proventi o di quello che si guadagna nella nostra attività come forno viene dato in aiuto alle famiglie povere. Vorrei ringraziare tutti voi per questa vostra disponibilità a darci una mano in questa situazione così difficile. Naturalmente noi non solamente vi ringraziamo ma vi siamo vicini perché il Signore vi accompagna nel vostro cammino di crescita. Noi qui da Betremme abbiamo la grazia di poter visitare quasi ogni giorno la Santa Grotta della Natività. Saremo presenti nelle nostre preghiere proprio in questo posto così santo e così importante per tutta la nostra fede. E grazie. Per concludere vorrei ringraziare in una maniera particolare degli evi delle scuole superiori, delle opere sociali Don Bosco di Sesto San Giovanni. Vi ringraziamo per questa vostra partecipazione, per questa vostra vicinanza a noi in questo momento così particolare per la nostra opera. Tra il resto io sono stato anche insegnante nella nostra scuola nell'anno scolastico 1982-83 e porto con me un bellissimo ricordo dell'esperienza fatta con i giovani della vostra scuola. E grazie.